Non è riuscita a spuntarla la Sveva Palacanestro Lucera che in settimana ha affrontato la diretta concorrente Dynamo Brignisi in trasferta, perdendo l'incontro per due punti, 73-71 infatti, il risultato finale a favore dei padroni di casa. La Sveva Palacanestro Lucera perde momentaneamente la prima posizione in classifica e domenica 27 marzo farà visita alla LSB Lecce. Altro incontro da recuperare per la New Volley Lucera che nel campionato di Serie D maschile di pallavolo avrà da affrontare il Cassano, con pagine che occupa il primo posto e da cui i lucerini si distanziano di due punti. La gara si giocherà sabato 26 marzo alle ore 18.30 alla Palavitarella di Cassano delle Murge.